Giornata di derby oggi a Canicattì tra il città di Canicattì e l'Alcattà, una partita sicuramente più sentita delle altre, però ecco una occasione per celebrare il futsal della città di Canicattì. Naturalmente voi avete un obiettivo che è quello di restare nella zona alta della classifica, forse altri hanno altri obiettivi, naturalmente l'Alcattà cerca di scrollarsi un po' di quello che è anche il titolo di generendola del campionato. Che partita sarà oggi? Che partita sarà? Sarà un derby dove non c'è nessuna favorita, certamente noi arriviamo in un ottimo momento nonostante l'ultima sconfitta di sabato scorso a Palermo, arrivata in maniera poco giusta, però il risultato è quello e bisogna accettarlo. Quest'oggi ci sarà il derby, noi siamo prontissimi, ci siamo allenati benissimo durante la settimana e arriviamo anche con quasi tutta la formazione a disposizione in un momento in cui ci esprimiamo abbastanza bene e cercheremo anche quest'oggi di far divertire il nostro pubblico e di conquistare assolutamente i tre punti che sono fondamentali. Tutti a disposizione, sarà una partita abbastanza calibrata dal punto di vista tecnico che avete preparato bene, lei diceva, in settimana. Con quale spirito vi accingete anche a chiudere questa stagione, la prima parte della stagione del campionato di C2? Sì, intanto ripeto, sarebbe come abbiamo già detto assolutamente importante e bellissimo concludere l'anno con questa vittoria, tra l'altro nel derby e ci proveremo con tutte le nostre energie. Poi l'anno sicuramente si è concluso con la passata stagione, con la salvezza strameritata, con un gruppo di ragazzini che si sono meritati in campo alla Serie C2 e quest'anno, come ben sappiamo, siamo ripartiti con ambizioni diverse di raggiungere i play-off che rimangono il nostro obiettivo e stiamo lavorando sempre meglio sia sul campo che sul mercato per rinforzare la squadra se ci sarà la possibilità entro lunedì anche di prendere qualche altro ragazzo, c'è qualche trattativa in atto e anche poi più avanti se ci sarà pure qualche giocatore svincolato per quello che ci servirà lo faremo pure. Il nostro obiettivo è molto chiaro, perciò dobbiamo raggiungerlo e faremo il possibile. Appuntamento quindi oggi pomeriggio, voi giocate al Falco Tennis di Contrata Calici? Sì assolutamente, la partita sarà alle ore 18, alla Falco Tennis invitiamo tutte le persone di Canicattì che si vogliono venire a divertire un'oretta a seguire questo atteso derby.